Idratiamoci, beviamo. La mattina è super importante bere. Perché? Perché il nostro cervello è fatto da tre quarti di acqua. Tenere il cervello idratato fa aumentare fino al 30% la velocità dei nostri pensieri. Cioè vuol dire che più il cervello è idratato, più processa velocemente. Altra cosa importante da fare la mattina è fare attività fisica, fare qualcosa che porta il corpo ad attivarsi. La mattina muoverci, quindi fare, non dico una maratona, ma qualcosa veramente di piccolo, ma che attiva il cervello è assolutamente molto importante. E questa è qualcosa che mi invito a fare anche prima di una sessione di studio. Quindi ogni volta che dovete studiare, prima di studiare, fateli due minuti di corsa sul posto. Ci attiviamo, il nostro cervello si attiva, vedete che quando vi andrete a sedere per studiare sarà tutto completamente diverso. Chiaramente anche qui l'acqua sempre teniamocela vicina perché se quando studiamo, prima di studiare ci siamo belli attivati e mentre stiamo studiando ci teniamo idratati, ricordiamoci che aiutiamo il nostro cervello a processare le informazioni fino al 30% più velocemente. Quindi vuol dire che apprendiamo di più in meno tempo.